Buon appetito, purtroppo siamo andati in partita, siamo messi in due quarti in mezzo, ci siamo in un cuore di troppo presto, però sono comunque contento perché abbiamo per certi tratti spesso quel caso anche la nostra squadra di mestro, poi è venuta fuori Treviso e per noi c'è stato poco da fare. Ho avuto un piccolo problema fisico, ho operato di settimana, se non lo potrò già riprendere magari una settimana prossima, speriamo niente di gravi insomma, peccato non esser stato il completo, però ovviamente vincere qua è molto difficile per tutti e niente, non c'è che mi sa tutte e sentite un po' la legge del X, dai? Ma io quando torno qui mi fa sempre molto piacere, sono sempre molto anche emozionato perché comunque hai visto grandi campioni, grandi partite, qui a Pala Verde, mi sono sempre divertito, quindi mi carico, mi stai diciamo. Ma tu l'hai rilasciato Treviso a Ponzano? Sì, sì, io giuro per fare 5 anni a Treviso e si ricordando, purtroppo poi non è dato quello che volevamo, ma insomma. E' stato un anno molto importante. 5.000 a Treviso per te? Beh, è stato veramente bello. L'ho già venuto a vedere una partita, tempo fa, e giocarsi, e giocarci anche contro, comunque è vero, dai. Ma hai fatto 20 punti e hai trovato vecchi amici, insomma. Sì, sì. Da il mio punto di vista è stata una bella serata, peccato se mi metto la sua fila che alla fine è poi l'unica cosa che conta, se puoi darmi un contributo per portare a casa la sua partita sicuramente meglio. Grazie. Ok, grazie. Grazie.